Signor Balboa, grazie di essere venuto con tanta premura. Ho letto i risultati delle sue analisi e della biopsia. Siamo in presenza di un linfomano knocking diffuso e in grado di cellule B. E che cos'è? Beh, una forma di cancro. Fa paura, mi rendo conto. Ma la cosa buona è che lo abbiamo scoperto in tempo. Tuttavia dovremmo asportare il tumore dai suoi linfonodi e iniziare immediatamente la chemioterapia. Anche mia moglie l'aveva fatta. Signor Balboa, per quanto riguarda la scelta terapeutica, questa è la nostra arma migliore. No, lo capisco, ma mia moglie ha tentato questa strada e io non voglio, non le ha fatto tanto bene, ma a lei non c'entra. Con la chemioterapia avrebbe buone possibilità di guarigione. Senza, invece... Va bene così, mi creda. Beh, per rendere almeno questi. Ci troverà informazioni sulla sua malattia e alternative terapeutiche. Volendo potrebbe... La ringrazio tanto. Senta, le sarei molto grato se non dicesse niente a nessuno.